Io sono uno dei cinque promotori di questa iniziativa. Gli altri promotori sono Giacomo Tomassi, Giovanni Tomassi, Giacomo Tamburini e Giuseppe Quercia. Ci siamo trovati per caso tutti con in mente un'idea di un futuro oltre questo momento di crisi in cui il business, il mondo del turismo è qualcosa di diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora. L'idea quindi è quella di puntare sull'esperienza, l'esperienza al centro della vacanza, quindi non più la vendita di luoghi ma la vendita di esperienze, dove il luogo è un secondo aspetto rispetto all'esperienza. Tutti siamo innamorati di queste esperienze che condividiamo come ad esempio la ceramica, i colori naturali, il buon cibo, la cultura di questa bellissima regione e abbiamo pensato di mettere insieme tutta questa nostra passione per condividerla con il nostro pubblico. Oggi parte qui dalla celletta, che è la prima struttura che appoggerà questa iniziativa, la conferenza stampa, con cui viene comunicato l'avvio di questa attività. Per ora noi partiremo dalle Marche con un portale che si chiama Marche Travel, nel quale potrete vedere e prenotare direttamente con tre clic tutte le nostre esperienze. Andando nel concreto, le persone possono venire qui il venerdì, ripartire la domenica e in queste giornate fare delle vere e proprie esperienze. Di che tipo? Abbiamo individuato delle aree tematiche, le esperienze sono ad esempio la ricerca del tartufo, la ricerca del tartufo insieme a dei cercatori e insieme a loro si va a cercare il tartufo, si vive l'esperienza. L'esperienza è vera, è vissuta, quindi le scarpe si sporcano, si sta insieme a loro. Poi quello che troviamo, se ne troviamo, altrimenti viene acquistato da Travel, viene utilizzato per cucinare. Quindi la sera si cucina qua con ciò che si è trovato. Poi i cacciatori parleranno della loro vita, della loro esperienza, quindi del perché è stata fatta una scelta di vita. E quindi questa è la base dell'esperienza, quindi proprio il vivere insieme, soprattutto con persone che sono appassionate, che hanno fatto di questa esperienza la loro scelta di vita. Per prenotare quindi la propria esperienza cosa bisogna fare? Per prenotare è molto semplice, bisogna andare nel nostro portale Market Travel e all'interno di questo portale ci sono tutte le varie esperienze e con tre clic è possibile prenotare fino a scegliere la camera. Gli ospiti di questa esperienza hanno a disposizione un pacchetto chiave in mano. In pratica dal venerdì pomeriggio fino a domenica mattina è tutto compreso, quindi questo significa anche i trasporti, pranzi, cene, colazioni, tutto. Quindi è massima trasparenza e massima chiarezza nella proposizione del nostro servizio. Mi pare una cosa molto interessante, questo è un luogo veramente straordinario e affascinante perché Coldelce ha una storia antica dei castelli di Serra di Genga, di Coldelce, di questo territorio. È un territorio bellissimo pieno di fauna selvatica, di ambiente incontaminato, una storia di castelli, di monasteri, quindi penso che sia un'iniziativa molto azzeccata, è una specie di paradiso terrestre questo. Quindi qui insegnare, come avrebbe detto la mia povera nonna che è morta a cent'anni, come fate il mondo, come si fa le tagliatelle, come si fa la legna, come si fa le potature, come è fatta tanta fauna selvatica che va dal lupo al capriolo, allo scoiartolo, a tutto quello che... E anche alle bellezze paesagistiche, ambientali, che sono ancora integre come erano cent'anni fa. Poi qui si mangia da Dio. Quindi c'è di tutto e di più, mi pare una bella iniziativa. Noi tra l'altro stiamo lavorando per fare due cose molto importanti. Uno è un portale turistico dove racconteremo, uno può cliccare dal mondo e capire cos'è stato questo territorio centinaia di anni fa che dialogavano con Federico da Montrefeltri, ma alla testa di Rimini e della Rovere di Pesaro col pianeta. E diciamo le radici storiche della città di Vallefoglia che vanno da Giovanni Santi a Girolamo Genga a personaggi illustri di caratura nazionale. Quindi mi pare una bellissima iniziativa, va tutto il plauso della città di Vallefoglia.